Alcangelo 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 Grazie. 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Andiamo avanti, top 5, quinto classificato, il numero 18, Domenico Chirico. Quarta piazza per il numero 1, Giovanni Greco. Terza piazza per il numero 2, Rosario Corsiano. Secondo classificato, il numero 4, Cantano Reficchi. Vince lo Slalom, Santo Stefano Manoli, anno solare 2023. Il numero 5, Scurio di Natura e Passione, Antonio Breccia. Applauso, l'ultimo applauso finale. Altonino, prendimi la cena, non sarei profilato. Datevi la colpa a questo uomo, offerta da Arcangelo Madaffari. Attenzione, offerta, Presidente, Presidente, offerta da Arcangelo Madaffari. Ci ha minacciato di morte. No, è pagato, è pagato. Offerta da Arcangelo Madaffari. Non mi ripetiamo, quinto, 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 quarto, greco, terzo, Borsaro, secondo Reficchi. Vince Antonio Beccan. Vivo, accetto i baci e ci sono perché bucato il prezzo. Giuliano Presto, non mi raccomando. Eccoli, 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 eccoli. Eccoli, 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 eccoli.